segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sorpresi magari tra una settimana tra qualche mese ma di sicuro di sicuro questo non fa mi sono distratta perché ho visto una coda nera cos'è un gatto protagonista vabbè abbiamo questo momento di alleggerimento gran bella coda però devo dire gran bella coda va bene scusi anch'io sono un gattofilo anche cazzola non siete d'accordo su niente preterossi lei cazzola sui gatti non è d'accordo e devo dire che anche cerno è un gattofilo lo posso lo posso testimoniare personalmente scusi generale è stato un momento di alleggerimento noi intanto ci vuole rimaniamo umani rimaniamo umani per completare un gatto che è morto qualche anno fa dopo 18 anni è un meticcio di 12 chili quindi anche noi abbiamo abbiamo le nostre partecipazioni va bene io ho i cani mi scuso con voi ma mi piacciono i cani andiamo avanti ecco in sintesi